Per diversi anni ha abusato, minacciato e violentato la figlia Astra, trattandola alla stregua di un oggetto sul quale riversava tutte le proprie frustrazioni, non mancando di privare la giovane donna della libertà e dell'autonomia di pensiero ed azione che ciascun essere umano ha diritto di vantare. Protagonista della squallida vicenda scoperta dalla polizia di Gela e dalla sezione di polizia giudiziaria diretta dal procuratore capo Lucia Lotti, è un cittadino tunisino. L'uomo, abitante a Gela, già da diversi anni sposato con una donna tunisina e padre di tre figlie, aveva per anni reso la figlia Astra vittima di un disegno criminoso fatto di molteplici abusi, minacce e violenze. Le indagini serrate condotte dagli inquirenti hanno permesso di tracciare precisi profili di pericolosità dell'indegato, il quale, nel disprezzo delle leggi ed esercitando prepotenza verso gli altri familiari, aveva nel corso del tempo sviluppato un vero e proprio stile di vita incentrato sulle costanti vessazioni e prepotenze verso le donne della propria famiglia. La vittima per scelta, come dicevamo, era in quasi ogni occasione la figlia di prime nozze della moglie. Terrorizzate dall'uomo, le figlie e la moglie, malgrado le molteplici occasioni di ricovero presso il locale ospedale, non hanno mancato di ridimensionare e affievolire la gravità dei fatti emersi nel corso del tempo per paura di ritorsioni e soprusi. Giunte all'esasperazione, le figlie del tunisino, stanche di vivere una situazione di raccapricciante disagio familiare e di assistere alle morbose attenzioni sessuali che il loro padre continuava nel tempo a manifestare alla figlia Astra, si sono rivolte agli investigatori. E' emerso un quadro drammatico. Dopo l'iniziale silenzio e la ritrosia a parlare, grazie al rapporto di empatia instaurato con gli operatori della polizia, preposti al difficilissimo caso, le vittime hanno deciso di collaborare pienamente, svelando i dettagli della turpe vicenda. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Gela, su richiesta del sostituto procuratore Lara Secaccini, in attesa della convalida del provvedimento da parte del GIP.